Il pirotecnico SRL, il re dei fuochi d'artificio, siamo con il cavaliere Gaetano Insogna, ricordiamo dove si trova questa attività, a Taranto in via Regina Elena 91A, angolo via Mazzini. Beh, quest'oggi scopriamo la vasta gamma di prodotti e le superofferte. Noi come rivenditori autorizzati del cavaliere Insogna Gaetano di Taranto abbiamo prodotti che in Italia oramai non si trovano più, siccome non c'è stata l'importazione quest'anno, però noi siamo uno dei pochi qui in Puglia che siamo i più forniti. Noi abbiamo sequenze da 50 colpi, sia titanio, colore, salici e biancenti, di tutti i modelli abbiamo uno di tutto. Abbiamo prodotti da 36 colpi, abbiamo prodotti da 100 colpi, di varia misura di calibro e di vari effetti. Abbiamo i 16 colpi, i 36, ripeto, abbiamo i 100 colpi che sono con vari modelli e vari effetti scenografici, di vari modelli. Tutti prodotti alti con tubetto di grosso calibro. Abbiamo le mitraglie da 500 colpi, abbiamo il vecchio Pirastar con botto singolo, abbiamo il Razzo Rocket in offerta, prezzo molto buono, veniteci a trovare che vi facciamo ancora di più dell'offerta per i nostri clienti di fiducia. Abbiamo 50 colpi a ventaglio scenografici che noi utilizziamo spesso per degli effetti scenografici della Biro musicale. Abbiamo la follia che sono botto d'oro con Rainer di apertura. Abbiamo qui effetti a ventaglio con una certa apertura silenziosa con 5 cambiamenti. Qualcosa realmente di spettacolare che si utilizzano soltanto su grosse feste e su grossi eventi. E noi, siccome che conosciamo il prodotto, sappiamo cosa possiamo proporre al cliente quando verrebbe acquistare. Qui andiamo sul livello tutto professionale. Andiamo su una sequenza di 290 colpi, su sequenze di 200 colpi, sequenze di 200 colpi dritte, 200 colpi a ventaglio e semi-ventaglio combinati. Poi abbiamo i 294 colpi silenziose che si può abbinare con la Biro musicale. Abbiamo i 397 colpi, cioè 400 colpi è il top, sempre di combinato. Tutto questo, tutto in offerta. Qui abbiamo una vasta scelta. Abbiamo su 360 colpi combinati con tubetto grande e altri a 100 colpi che sono roba di grosso livello. Questo qui è l'ultimo arrivo che è stato fatto, che sono dei 100 colpi assortiti con 7 cambiamenti con strazzatura finale al titanio. Un spettacolo completo. Poi andiamo sui petardi. Qui ho una vasta scelta andando sul vecchia Minerva che ora si chiama Sandokan a sfregamento. Il Zeus, il Magnum. E andiamo anche sul Magnum a Levi di prodotto italiano. Queste sono delle fontane che durano 120 secondi, 2 minuti, alzata 6 metri e 12 metri. Il top del top. Poi abbiamo il track italiano, track romano e botto singolo che viene chiamato Mini Thunder, sempre omologato e a norma. Il tutto solo e esclusivamente da noi, dal re dei fuochi d'artificio in via Reginaella 91. Qui c'è una vasta scelta invece di prodotti pirotecnici che sono di grosso calibro e abbiamo qui a partire ventali, semi-ventali, salici biancenti e tutto quello effetti scenografici che noi possiamo volere. Invece in questa altra sala troverete tutto di prodotti di Quinta D. Quindi prodotti che si possono dare alla vendita sempre per persone di 18 anni da utilizzare sui balconi, tutti effetti scenografici di qualsiasi modello. Detto tutto ciò, aspettiamo i nostri clienti veramente con il cuore. Vi facciamo il 30 al 50% e vi auguriamo un buon Natale. A tutti i nostri clienti e a tutti. Vi aspettiamo. E come sempre, sono sempre a vostra disposizione. Ricordatevi, recatevi soltanto da persone esperti che conoscono i prodotti. Grazie e auguri. Grazie. Grazie. Grazie.